Buonasera a tutti, con il 31 ottobre si è aperto un periodo particolare del cosiddetto respiro della terra, dell'anima della terra, quindi con quella che è la vigilia di ogni santi, che in un paese di lingua anglosassone si chiama Halloween, comincia ad aprirsi una sorta di squarcio, di finestra tra il mondo fisico sensibile e i mondi sovrasensibili e questo processo continua, continua sostanzialmente attraverso ogni santi, poi attraverso i defunti e poi procede fino ad arrivare a San Martino, oggi, poi ancora alle quattro settimane d'avvento, e poi con le 13 notti sante. Questo è il periodo dell'anno in cui l'io umano può sentirsi più vicino ai mondi sovrasensibili. Di conseguenza diventa più importante il rapporto con coloro che sono nella sfera subito adiacente a quella terrestre e anche nelle sfere cosmiche che sono entro la sfera del sole, che sono in particolare i nostri defunti, quindi coloro che saremo in un futuro prossimo. Novalis ebbe a dire che ogni nascita nel mondo fisico è una morte nel mondo spirituale e ogni morte nel mondo spirituale, di converso, è una nascita nel mondo fisico. Quindi quando noi entriamo attraverso le porte della sfera della luna nella sfera della terra, noi in realtà stiamo morendo al mondo spirituale e nasciamo al mondo fisico sensibile. E così quando attraversiamo invece la soglia e le porte della morte, noi entriamo nella sfera della luna, moriamo al mondo fisico sensibile e nasciamo nel mondo spirituale. Quindi esiste un continuo ingresso, una continua uscita degli spiriti dalla sfera terrestre alle sfere cosmiche. E la scienza dello spirito, una delle branche della scienza dello spirito, che si prodiga per dare una mappa e un vocabolario all'essere umano e a renderlo capace di orientarsi già nel momento in cui siamo morti al mondo spirituale e siamo invece vivi al mondo fisico sensibile. Così che poi, una volta attraversate le soglie della morte, riusciremo in qualche modo con questa mappa, con questo vocabolario che abbiamo messo insieme, riusciremo a avere dei punti di riferimento, a ritrovarci in qualche modo. Ogni volta che in ambito antroposofico si parla dei defunti, si dice che quando si leggono parole delle sacre scritture, per esempio, di tutto il mondo, quindi delle verità del mondo spirituale che sono state messe per iscritto attraverso l'ispirazione, o ancora di più, quando per esempio si parla di scienza dello spirito, come questa sera, ma come in tante altre realtà, in tante altre occasioni, ogni volta che si fa un lavoro spirituale che sia centrato nella verticalità del Dio, in quel momento, gli esseri sovrasensibili, gli esseri delle sfere sovrasensibili si avvicinano a coloro che stanno parlando delle verità del mondo spirituale, per esempio della scienza dello spirito, e quindi i defunti si avvicinano ai vivi, anche se forse dovremmo dire i vivi, nello spirito si avvicinano a coloro che sono vivi fisicamente, oppure che sono morti allo spirito, si avvicinano per udire quello che possono ancora udire dai vivi al mondo fisico e che in qualche modo può rischiarare la loro vista dei mondi sovrasensibili, quindi si raccolgono intorno a coloro che sono incarnati per imparare, perché essenzialmente l'essenza dell'incarnazione è un'essenza pedagogica, è un'essenza di, è una lezione di vita, nel vero senso della parola, la biografia. I defunti, quando non hanno avuto modo o hanno avuto poco modo di approfondire questa realtà durante la loro incarnazione, hanno bisogno di più luce e questa luce, questa luce sovrasensibile la trovano nei vivi che si occupano di realtà dello spirito. Questo processo di cui abbiamo parlato di apertura dei veli, dei mondi sovrasensibili, è chiaramente anche un'apertura in entrambi i sensi, in un certo qual modo, ovvero sia verso il basso che verso l'alto. Da questo, per esempio, derivano le tradizioni che, anglosassoni soprattutto, in cui Halloween ci si traveste da mostri o piuttosto da creature infere. Questo si ricollega ad antiche tradizioni pagane. Dall'altro lato si aprono le realtà dei mondi superiori, per esempio quella dei santi, coloro che sono non l'esempio del futuro prossimo, ma l'esempio del futuro un pochino più lontano del resto dell'umanità. I santi sono coloro che hanno intrapreso già un certo cammino di iniziazione, un certo cammino interiore e in particolare, nel caso di quelli che chiamiamo santi nella tradizione cristiana, sono santi dell'imitazio Cristi, dell'imitazione del Cristo, quindi che in qualche modo hanno ricapitolato le vicende della vita del Cristo, in un certo modo speciale, in un modo individuale, ma che attraverso la loro biografia sono riusciti ad ascendere a una sfera che non è più una sfera della mera personalità, quindi siamo nell'astrale, ma è una sfera che trascende l'astralità e arriva all'individualità, cioè archetipale. E sono un po' i leader, sono un po' i capi, per questo che vengono, in certo senso, arrivano prima, sono un po' il paradigma e poi, quindi il primo novembre i santi e il secondo i defunti. e nel caso di San Martino, oggi, tanto per fare un accenno, la nostra ricerca spirituale accende una luce nei mondi sovrasensibili, l'abbiamo detto prima, quindi accende una luce che i defunti possono vedere, quindi è una luce sovrasensibile. Nel periodo più buio fisicamente, quindi dall'autunno fino a tutto l'inverno per la terra, in realtà ci si addormenta dal punto di vista fisico sensibile, ma ci si risveglia dal punto di vista animico spirituale. Quindi quando si fa del lavoro spirituale durante l'autunno e durante l'inverno, è in realtà il periodo più favorevole, se si riesce ad avere le forze per rimanere centrati nella verticalità dell'io. E questo è il senso della luce che viene accesa in San Martino, no? A San Martino le lanterne. Ora cerchiamo di accendere questa lanterna di San Martino in un senso, nel senso di avere questa mappa, questo vocabolario per parlare del viaggio dei defunti e del viaggio che noi abbiamo fatto per venire all'incarnazione e che faremo per uscire dall'incarnazione, quindi per entrare nel processo di escarnazione dopo la morte. Questa è la nostra soglia dell'incarnazione e questa è la nostra soglia dell'escarnazione. Quindi qui abbiamo la nascita fisica e la morte fisica. Qui, tra nascita fisica e morte fisica, noi abbiamo lo svolgersi della biografia, che possiamo rendere immaginativamente come questa U, questa curva. c'è la U che euritmicamente è la vocale di apertura verso i mondi superiori. c'è una metà della vita, che da un punto di vista architipale nella biografia corrisponde ai 33 anni. e in qualche modo riusciamo ancora a figurarci che cosa ci succeda in questa biografia, almeno a grandi linee. Nell'ambito antroposofico si fa una divisione in settenni, quindi si fa da 0 a 7, da 7 a 14, con lo sviluppo, diciamo, progressivo di quelli che sono i corpi, di quelli che sono le anime, di quelli che sono gli spiriti. Ora non voglio entrare troppo nello specifico, ma comunque nei settenni, se hanno sviluppo in successione, nei primi tre settenni di corpo fisico e eterico-astrale, nei tre settenni centrali dell'anima, quindi della triplice anima, quindi anima sensiente, razionale e cosciente, e poi negli ultimi tre settenni dello spirito, quindi sé spirituale, spirito vitale e uomo-spirito, chiamati anche manas, buddhi e atma, con una terminologia teosofica. Questo è, a seconda della nostra età biografica, dove ci troviamo tutti noi. Ma in realtà, dal punto di vista della scienza dello spirito, questo non è che una sorta di contrazione, di una vita molto più grande e molto più lunga, perché sostanzialmente diciamo che possiamo dire che questa biografia arriva al massimo intorno ai cent'anni. E noi sappiamo che, da un punto di vista della scienza dello spirito, il minimo che si può avere tra un'incarnazione e l'altra sono sostanzialmente millecento anni, quindi almeno due incarnazioni per ogni era astrologica e, da un punto di vista archetipale, una maschile e una femminile alternata. Quindi, in conseguenza, negli altri mille anni cosa succede? Sostanzialmente, negli altri mille anni, diciamo, se vogliamo parlare da questo punto di vista, dal punto di vista della metà dell'era astrologica, si passa nella vita cosmica del post-mortem. Questo chiaramente è, ripeto, il minimo, perché poi in realtà le incarnazioni possono essere e sono in realtà molto più accelerate. È il massimo che si può vivere. No, intendevo il minimo, diciamo, di incarnazioni per l'astrologica, che sono due, mentre non sono il massimo, cioè possono essere molte di più, in questo senso. E gli anni, invece, è esattamente il contrario. Quindi, la vita nel post-mortem è molto, se vogliamo, più lunga, ma anche più ricca. Ed è una forma dove questa, diciamo, dove la vita fisica, l'incarnazione fisica, è una forma di contrazione. La vita nel post-mortem è una espansione. Quindi questa è la nostra sfera della Terra, nella corrente del tempo e dello spazio. e quindi questo corrisponde al mondo fisico. Che cosa accade subito dopo la morte fisica? Qualcuno di voi ricorderà che l'uomo ha una composizione, diciamo, è molteplice, non è unitario. L'unica sua parte unitaria, sostanzialmente, è l'io. Ma l'uomo può essere visto come una sorta di matrioska dei corpi. L'abbiamo citati prima, corpo fisico, eterico, astrale, e poi il principio dell'io, che non è un corpo. Quindi, quando noi attraversiamo le porte della morte fisica, è il momento in cui il corpo eterico, corpo vitale, comincia a staccarsi in modo importante, quindi sempre, progressivamente, sempre di più, dal corpo fisico. Il corpo fisico, che è riempito dalla materia minerale, viene abbandonato dal corpo eterico vitale, che si espande nella sfera subito successiva a quella della Terra, che è la sfera della Luna. La sfera della Luna è continua con il corpo eterico della Terra e insieme, in tessono, nell'eterico, cioè in questa sostanza vitale, che non dobbiamo intenderla come una sostanza fisica, ma siamo già nel sovrasensibile, che chiamiamo regione eterica o mondo eterico, per semplicità. Ma di fatto è la regione eterica del mondo fisico. Quindi questo è il mondo fisico sensibile, o regione chimica del mondo fisico, e questa è la regione eterica del mondo fisico. Quindi non è sensibile. È già sovrasensibile. Non è ancora spirituale e non è ancora animica, ma è già sovrasensibile. Anzi, è una sorta di inversione. Steiner cerca di farlo vedere dal più punto di vista possibile, per far comprendere che cosa sia l'eterico, e uno dei modi che, diciamo, trova dal punto di vista della scienza dello spirito, per rendere che cosa sia l'eterico, è uno spazio negativo. Cioè quello che in un senso si pone, cioè positivo, nel mondo fisico, nell'eterico appare come il suo inverso, completamente rovesciato in se stesso. Come se fosse un calzino che si rovescia. e di conseguenza il corpo eterico, che è il corpo dove si imprime la memoria, e quindi essenzialmente il tempo, cioè la successione dei settenni nella nostra biografia, quando arriviamo alle porte della morte, si rivolta come un calzino. E quindi da quella che è una dimensione temporale, diventa una dimensione spaziale. Questo è il famoso quadro aritroso della vita, che si sperimenta, come se fosse, diciamo, una pinacoteca, una galleria, diciamo, di quadri, che sono i nostri quadri di vita, degli eventi della vita appena passata. Questo è quello che molti, che sono stati, che hanno avuto, diciamo, delle esperienze di premorte, o vicino alla soglia della morte, hanno sperimentato. Quando si dice, mi è passata la vita davanti. La vita davanti passa, aritroso, dall'ultimo momento, dall'attraversamento delle porte della morte, fino alle porte della nascita, nel mondo fisico sensibile. Ma non è più tempo, è una forma di spazio. Noi ce lo possiamo immaginare come se fosse qualche cosa che ci compare davanti come una serie di quadri. Scusami, cioè, cosa vediamo? Cioè, nel momento in cui si stacca, no? L'eterico dal fisico. Cioè, lasciamo il corpo, cosa, vediamo le nostre cose, cosa... Allora, in sostanza, noi dobbiamo fare uno sforzo, no? Di immaginazione. Noi dobbiamo percepire che tutto quello che ha la nostra fisiologia, che sostiene vitalmente, da un punto di vista vitale, il corpo, è il riflesso fisico del corpo eterico, del corpo vitale. Quindi è qualcosa che noi, in un certo senso, vestiamo. Dentro di noi c'è tutta una serie di fisiologia che è legata agli organi. Quella parte è il riflesso dell'attività dell'eterico, che sono forze formative, cosiddette. Questo corpo delle forze formative, quando noi attraversiamo le storie della morte, al posto che è solo un vestito che noi indossiamo e che quindi, in un certo senso, lo sentiamo quasi come nostro, in realtà è come se lo vedessimo appeso davanti a noi. È come se noi facessimo, diciamo, il bucato e vedessimo i vestiti, che rappresentano i processi, ma anche, quindi, la memoria impressa nel corpo eterico, davanti a noi. come se fosse realmente una serie di fotogrammi, di quadri. Quindi poi rivediamo, diciamo, la nostra vita, che abbiamo, tutto quello che abbiamo fatto nella nostra... Esattamente, nella vita, in questo, nella vita appena trascorsa. E quando si dice, magari, che là pure, andiamo a giudizio, cioè, questo non lo so, ma questa è una cosa... Lo vediamo dopo. Dopo, sì. Quindi, di conseguenza, l'eterico, quindi la memoria individuale, si spande nel corpo eterico della Terra. Nel caso di persone, diciamo, che hanno avuto una vita, diciamo, senza seguire una via esoterica, ecco, diciamo, in questo senso, le impressioni mnemoniche del corpo eterico si dissolvono, almeno in parte, tranne quelle che hanno a che fare con l'esperienza dell'Io, nel corpo eterico della Terra. E ritornano a far parte del corpo eterico che è intessa tra la Terra e la Luna. Nel caso, invece, di iniziati che hanno lavorato fino a un certo grado di strutturazione del corpo eterico attraverso il proprio Io, il corpo eterico può rimanere intatto durante la... questa, diciamo, questa fase, non si dissolve, ma rimane intatto. Questo, per esempio, è il caso dei Santi di cui parlavamo prima, ma anche di altri iniziati. questo ci porterebbe in un discorso molto complesso dell'economia spirituale, ma noi ci basta sapere che normalmente si dissolve tranne l'estratto della memoria delle esperienze in cui l'Io era effettivamente, completamente autocosciente. questa ricapitolazione al contrario della vita dura circa tre giorni e mezzo. Questo processo, questo... Del vedere la vita che ti passa davanti. Sì. Tre giorni e mezzo. Questo chiaramente è legato anche al ritmo dei tre giorni e mezzo, diciamo, che è stabilito dagli antichi misteri nel quale si passava attraverso la cosiddetta morte mistica, quindi sostanzialmente si veniva, quindi questo prima del Cristo, si veniva seppelliti vivi letteralmente per tre giorni e mezzo da uno ierofante e lo ierofante poi dopo tre giorni e mezzo tirava fuori l'iniziato da questa morte mistica e l'iniziato aveva sperimentato già il viaggio post-morte ma almeno in parte a seconda di quanto questa iniziazione era effettivamente riuscita. Alcuni chiaramente non ne uscivano affatto, si sapeva già che una buona parte di candidati all'iniziazione in realtà non avrebbe passato diciamo la prova di questa morte mistica e sarebbe effettivamente morto dal punto di vista fisico. questo è chiaramente in relazione anche poi a quello che avviene al mistero del Golgotha quando dopo il sacrificio del Cristo in croce avviene il viaggio negli inferi quindi tutto il periodo che viene ricapitolato dal punto di vista delle festività del respiro della Terra nel periodo di Pasqua. Il corpo eterico quindi l'abbiamo lasciato nella sfera della Luna il viaggio negli inferi di Cristo si del cosiddetto o viene chiamato anche il viaggio tra i defunti perché nell'antichità nell'antichità greca gli inferi erano il luogo dove dimoravano i defunti quindi non necessariamente gli inferi come li intendiamo l'inferno come lo intendiamo Dante che lo vediamo adesso peraltro e che è uno stato dell'essere sempre no? quindi di conseguenza il viaggio del Cristo nelle sfere della Terra dal momento in cui viene sostanzialmente sepolto in quel momento il viaggio del Cristo e dello spirito del Cristo all'interno della Terra va a lavorare nel mondo dei defunti in piena coscienza ovviamente perché si sta parlando di uno spirito solare non si sta parlando di un un io umano però chiaramente l'eco di quel lavoro e quindi l'eco del lavoro che fanno gli iniziati in senso cristiano e quindi in senso cristico per essere più precisi archetipicamente va ad agire su questo processo della preservazione del corpo eterico la sfera della Luna noi dobbiamo io qui l'ho rappresentata come sostanzialmente separata da quella della Terra e separata poi dalla sfera successiva che è quella di Mercurio però noi dobbiamo immaginarci che esista comunque una sorta di gradualità che sfumino i piani dell'Uno i sottopiani di una sfera nei sottopiani di quella successiva le sfere successive sono Mercurio Venere e Sole dai piani superiori della sfera della Luna noi andiamo ai piani inferiori della sfera di Mercurio i piani superiori della sfera della Luna sono già legati a un altro mondo quindi abbiamo detto regione eterica del mondo fisico a quello che viene chiamato mondo astrale il mondo astrale di cui la maggioranza diciamo arriva poi a sfiorare i sottopiani superiori della sfera di Venere arrivano a sfiorare quella che è la sfera solare il mondo astrale che è il mondo delle sostanzialmente quelle che noi chiamiamo immaginazioni per esempio nell'ultima conferenza tenuta qui a Mesagna abbiamo parlato dell'immaginazione di Michael quella e dell'immaginazione anche degli altri arcangi come abbiamo accennato quelle immaginazioni sono in tessute nel mondo astrale che è il mondo dove gli iniziati attraverso una percezione chiaroveggente quindi dell'io che lavora sul corpo astrale percepisce le immagini che sono intessute dagli esseri spirituali in questa sfera e per parlare di esseri spirituali la sfera della luna è legata agli angeli la sfera di mercurio agli arcangeli e la sfera di venere alle arcai o principati a questo punto alla fine del nostro viaggio nella regione eterica e avvicinarsi al mondo astrale noi dobbiamo immaginare che ci sia l'io che quindi ha perso il corpo fisico nel mondo fisico ha perso il corpo eterico tranne un estratto nel mondo eterico e adesso è rivestito solamente di una sostanza astrale quindi abbiamo il principio dell'io e questa sostanza astrale questa sostanza astrale ha una parte bassa e una parte alta per semplificare una parte più oscura e una parte più luminosa la parte più oscura è legata agli strati alti ai sottopiani alti della sfera della luna e a quelli più bassi della sfera di mercurio questo questa regione è quella che viene chiamata kamaloka con una terminologia teosofica o purgatorio il purgatorio è la fase in cui il corpo astrale si purga si purifica da tutte quelle che sono i legami che ha che ha avuto ancora che ha ancora ma che ha avuto attraverso la biografia quindi l'incarnazione legandosi al corpo eterico al corpo fisico cioè tutto quello che piaceva o viceversa che non piaceva tutto quello che ha questo dualismo di piacere e di spiacere in questa polarità vive nella parte bassa dell'astrale e deve essere purificato perché di fatto il principio dell'io l'abbiamo accennato prima è archetipale è un principio che già è spirituale non vive più nella polarità del dualismo si dà è di conseguenza nel purgatorio si sperimenta da un lato la purificazione di tutte quelle che sono le brame legate al corpo eterico e al corpo fisico quindi corpo eterico legato per esempio alle abitudini tutto quello che sono i ritmi di vita e il corpo fisico ovviamente è tutto quello che attrae la materia fisica la materialità anche l'azione anche là tutto quello che è l'impressione dei sensi in questo senso l'azione quello che impressiona i sensi l'adrenalina si dice oggi tutti quegli aspetti che sono legati alla parte animale vegetale dell'uomo devono essere lasciati andare e si sperimenta quelle che sono le condizioni di cui parla per esempio in modo allegorico Dante nell'inferno quindi in un certo senso la parte più difficile diciamo del purgatorio corrisponde ancora a una sfera di purificazione animica che è quella dell'inferno dantesco infatti Dante per esempio nell'inferno non parla di spiriti parla di anime dell'inferno parla ancora di anime nel purgatorio e poi parlerà solo di spirito e di spiriti nel paradiso questo è esattamente una conoscenza iniziatica che corrisponde alla conoscenza del fatto che in un certo senso finché siamo entro la sfera del purgatorio esista ancora un elemento che va sfumando ma è un elemento temporale anche se non è più un elemento temporale di tipo fisico sensibile ma è di successione di metamorfosi essenzialmente di successione di stadi un altro dei processi di purificazione che avvengono nel purgatorio nel kamaloka è quello di sperimentare il male fatto agli altri il male fatto agli altri ci viene intorno ci arriva da tutte le direzioni fatta a tutti gli esseri senzienti quindi anche agli animali e noi siamo degli osservatori così come eravamo degli osservatori nella regione eterica della nostra apertura e espansione del corpo eterico lo siamo nella purificazione della parte bassa dell'astrale quindi che avviene con sofferenza con una forma di sofferenza stiamo parlando ancora di questo stadio infernale barra purgatorio che va dall'esperienza infernale fino a quella del purgatorio quindi stiamo parlando ancora del contrapasso dal punto di vista di dante cioè un bilanciamento se si è avuto troppo si deve cercare di ridurre e se invece si è avuto troppo poco si deve cercare di aumentare di bilanciare insomma è una forma di bilancio peraltro nell'ambito per esempio dantesco quindi di quello che è la cosmogonia dantesca tutti quelli che sono i peccati per eccesso sono in un certo senso meno gravi dei peccati per difetto perché in effetti nell'eccesso c'è comunque un desiderio della brama di vivere mentre in quelli per difetto c'è una privazione della propria vita agli altri è meglio commettere qualche errore in più che reprimersi esattamente che questo è dimostrato per esempio dalle vite dei santi che in un certo senso si dice sono passati da un estremo all'altro ma perché perché fondamentalmente di fondo c'era una brama di vita e la brama di vita ricerca che cosa in realtà anche sbagliando ricerca il significato spirituale anche se lo fa nei modi sbagliati magari nei modi che non portano lo spirituale una volta che si è sperimentato questo pareggio da un punto di vista del basso astrale si vive nell'astrale che diventa diciamo dei piani medi fino agli piani superiori dell'astrale fino quindi alla sfera superiore di venere e ai sottopiani superiori della sfera di venere qui è dove sostanzialmente alcune anime sperimentano quella che era una loro antica inclinazione steiner racconta che quando a un certo punto nell'era del murica quindi ai tempi del peccato originale la terra si sta verigidendo troppo le anime umane sono uscite dalla sfera terrestre e sono andate in altre sfere planetarie ancora oggi quando le anime entrano dalla porta dell'incarnazione portano con sé una sorta di tintura planetaria e questa tintura planetaria che ha a che fare con mercurio venere marte giove viene portata nell'incarnazione alcune anime per esempio che sono inclini più ad essere mentali sono legate più facilmente alla sfera di mercurio quelle che invece sono più artistiche per esempio la sfera di venere questo è qualche cosa che esiste ancora però a livello animico non a livello dell'io quindi è un livello che è pur elevato superiore già all'astrale che è più animale ma comunque non ancora propriamente spirituale che di fatto l'io si ripete anche qui archetipicamente è quindi è oltre diciamo questo aspetto di tintura planetaria si arriva dunque in cui diciamo in questo viaggio abbiamo dissolto l'astrale nel mondo astrale quindi prima si dissolve in un certo senso con dolore poi si dissolve invece sempre di più con una sorta di gioia e si giunge alla sfera del sole si giunge alla sfera del sole dove è quello che noi chiamiamo io sulla terra che in realtà è un'emanazione di qualche cosa che esiste molto al di sopra l'io superiore che ha la dimora sul sole questa per esempio è l'immagine se avete visto per esempio basso i rilievi del periodo di Achenaton di questo disco solare Aton che invia una mano che tocca in quel caso lì la famiglia reale ma comunque tocca quelli che sono un'incarnazione quella mano è quel coraggio dell'io superiore che dalla sfera del sole si incarna sulla terra ma di fatto è come se fosse questa mano che si ritira e si ritira sulla sfera del sole dove è a casa perché nuovamente nell'erale murica l'uomo che passa al suo stadio animale a quell'epoca riceve l'io come dono dalla gerarchia angelica del sole gli elohim o podestà i spiriti della forma mentre questa quindi dal sole dalla sfera del sole in giù verso la terra quindi qua andiamo verso lo spazio e il tempo verso la terra qui invece andiamo verso l'archetipale quello che è al di fuori dello spazio del tempo qui dalla sfera di venere in poi andiamo verso la personalità dalla sfera di venere in su andiamo verso l'individualità qui al passaggio tra la sfera di venere e la sfera del sole abbiamo un altro mondo che viene chiamato mondo del pensiero o devakan inferiore cioè il mondo spirituale inferiore questa è la vera patria dell'essere umano dell'uomo dell'io dell'uomo cioè quello che veramente è uomo dell'essere umano per essere precisi e qui così come appunto abbiamo sperimentato qui il male che è stato fatto agli altri in questa sfera noi sperimentiamo il bene che abbiamo fatto agli altri in una nuova compensazione quindi qui sperimentiamo quelli che sono gli effetti sostanzialmente di quello che noi abbiamo portato attraverso l'io come dissolvimento come scioglimento del karma mentre qui siamo ancora nell'ambito di quello che è intessuto nel karma e che in qualche modo attraverso il dolore è ancora intessuto qui stiamo parlando dei legami che sono andati a sciogliersi perché il karma è legato chiaramente a tutto quello che è personalità tutto quello che è astrale non a quello che è spirituale quindi scusa il periodo di stanzionamento diciamo in ognuno di quelli è legato a quello che è stato chiaramente la vita sulla terra voglio dire se uno ha vissuto producendo sempre più dolore agli altri la prima il primo periodo sarà molto più lungo rispetto al secondo dove allora è leggermente diverso però c'è questo discorso ovvero infatti volevo parlarmi adesso nel mondo astrale si permane per circa un terzo della vita passata nell'ultima incarnazione questo terzo un terzo corrisponde alle ore in cui si era addormentati ma quello che dici tu è che se tu hai compiuto più azioni diciamo che hanno generato karma il tuo stato di inferno è più intenso quindi si trasforma in un'intensità come intensità e come possibilità necessità di compensazione ed infatti quindi in realtà la maggioranza del tempo proprio perché la patria spirituale è in realtà la sfera solare la maggioranza del tempo quindi di questi mille anni nella nostra metà dell'era astrologica vengono passati nella sfera solare che è quella che noi possiamo chiamare essere il paradiso la parte diciamo i cieli più bassi in un certo senso del paradiso tornando sempre al discorso di prima una persona che è vissuta diciamo facendo poco bene agli altri chiamiamolo diciamo poco bene agli altri quindi in quell'altra seconda fase dove deve come abbiamo detto prima ricevere tra virgolette tutto il bene che ha fatto chiaramente se bene ha fatto poco in quella fascia lì praticamente stare a meno tempo o di minore intensità è una minore intensità ma non solo se non si sono fatti determinati passi durante la biografia la maggioranza del tempo nel post mortem non ha una visione chiara ma ha una visione che diventa man mano più offuscata perché servono sempre più forze di coscienza per salire da una sfera all'altra mantenendo uno stato di coscienza addormentato praticamente però scusami però siamo attenti perché il concetto di tempo e di spazio è differente ma infatti ma infatti non è il tempo è nel fisico ma infatti è il tempo per noi incarnati il tempo per noi incarnati chiara lì cambia tutto certo è il tempo rispetto a noi incarnati cioè del ritorno chiaramente io qui l'abbiamo detto il tempo e lo spazio sostanzialmente finiscono già qua ma noi possiamo ancora fare dei ragionamenti dal punto di vista del tempo ma dal punto di vista del tempo di noi incarnati di noi incarnati volevo fare un'osservazione rispetto a questo scusa se parlo però se si facesse l'esercizio dell'introspezione retrospettiva eh scusa sì retrospezione la sera io arriverei praticamente se la faccio bene se la faccio bene se la faccio ben fatta così arriverei al momento in cui mi sveglio sì e quindi in un certo senso mi collegherei al periodo in cui di sonno in cui non ero non ero sveglio questo elemento potrebbe domanda potrebbe influire sul 30% che noi passiamo a dormire l'esercizio della retrospettiva serale quindi prima di andare a dormire ricapitolare la giornata trascorsa dal momento in cui si va a dormire fino al momento in cui ci si è svegliati la revisione chiamata anche della giornata che è diciamo una forma più microcosmica di quello che è la revisione la scompaginazione del corpo eterico al momento del passaggio della soglia della morte fisica velocizza e in qualche modo va già a lavorare in anticipo su quella che è la regione eterica ma anche su quella del purgatorio perché si va a lavorare sulla percezione degli eventi quindi struttura il corpo eterico quindi aumenta peraltro la potenza della memoria ma allo stesso tempo lavora in un senso per esempio quando passano delle immagini che hanno a che fare con una reazione che noi abbiamo avuto o una scelta che abbiamo fatto e che ha causato un certo stato d'animo nell'altro si va già a lavorare nel senso del purgatorio quindi si entra nell'elemento emotivo astrale diciamo che uno si porta avanti si porta avanti col lavoro questo lavoro ovviamente raggiunge al massimo quello che è il lavoro sul purgatorio nel purgatorio e nell'astrale non può andare oltre quello della retrospettiva ma chiaramente l'io osservatore si rafforza si e potrebbe anche se lui è cosciente dei torti che ha commesso potrebbe anche rimediare prima di esattamente e si va sempre a lavorare in questa sfera entro il mondo astrale tra la regione eterica e il mondo astrale ma anche scusami nella rivista serale può anche lì modificare nel senso che se io durante la giornata mi rendo conto di aver fatto qualcosa che ha portato sofferenza disarmonia eccetera agli altri ma anche a me stesso potrei nella rivista rivisualizzare nella maniera corretta si e quindi modificare attraverso il pensiero diciamo più che corretta nel modo in cui saresti stato più autocosciente più autocosciente ma il fatto è che riuscirai a modificare tanto quanto le tue forze di autocoscienza sono in grado di penetrare nelle conseguenze della tua scelta o della tua azione che quindi ha un limite anche quello perché io non posso prevedere tutte la serie diciamo di conseguenze che questa ha l'effetto farfalla diciamo di una qualsiasi azione un altro iniziato riesce a fare questo e quindi in un certo senso va a operare direttamente sulla catena delle conseguenze scusami ma consapevolizzare un atto diciamo in vita il dolore che si è magari anche pesante che si è dato agli altri e comprenderlo e cercare poi di riparare in vita anche diciamo consapevolmente nei riguardi della persona per esempio a cui si è fatto tanto male e portare diciamo balsami bene far sì che questa cosa venga che cosa ci portiamo poi nel mondo spirituale cioè nel brame addenti nella fase del basso astrale che noi riusciamo a superarla con una minore intensità di inferno è sempre una minore intensità è sempre una questione di coscienza è una questione di coscienza noi ovviamente utilizziamo dei termini che sono per noi sensati ma chiaramente noi dobbiamo considerare che questi sono tutti stati dell'essere che peraltro noi abbiamo delle terminologie inappropriate per descriverli quindi per questo si va nell'allegoria tipo la Divina Commedia però parlando del mondo del Deva Chan hai detto che si scioglono i nodi karmici no si sperimenta ciò che si è sciolto dei nodi karmici nell'incarnazione ma noi ne portiamo i nodi karmici sì ma chiaramente ma quel karma viene portato nell'incarnazione successiva come estratto del corpo astrale voglio dire i rapporti con i parenti con le persone a cui sei stato affettivamente legato quelli rimangono nella prossima della vita sì ma si vengono completamente riorganizzati su altre basi ma noi una parte del karma in qualche modo ci avremmo lavorato pur sopra anche per una minima parte no quella parte che si è sperimentata e che si è riusciti a dissolvere si sperimenta ritorna così come qui c'è ritornato il dolore inflitto qui ci ritorna il karma dissolto cioè le conseguenze della dissoluzione del karma quindi positivo in un senso e non di positivo negativo ma nel senso di quello che è l'equilibrio rispetto al mondo spirituale quindi non siamo più nel dualismo se vogliamo dire in un altro modo è il bene superiore che non è contrapposto a un male è la libertà qua nella metà della vita i primi 33 anni si dice nell'ambito dello studio di biografia che si è sotto il karma lunare dai 33 anni circa 33-35 in poi si è nella libertà solare nel karma lunare noi sperimentiamo quello che del karma delle incarnazioni precedenti ci portiamo dietro e viene elaborato sotto forma dei corpi fisico eterico astrale nella libertà solare noi operiamo su quel karma per cercare di scioglierlo quindi la sfera successiva quella di Marte quella ancora successiva quella di Giove e quella ancora successiva di Saturno man mano che passiamo diciamo il nostro tempo nel nostro paradiso solare noi andiamo ancora più in alto noi man mano che sperimentiamo questa sfera solare dobbiamo immaginarla come un sollevamento e un'espansione qui l'Io ha l'estratto sostanzialmente delle esperienze nel corpo fisico nel corpo eterico nel corpo astrale le assume le assume in sé e arriva in questa sfera mentre sostanzialmente nella sfera solare appunto ha come principalmente incontra gli Elohim quindi coloro che donando una parte di loro stessi hanno generato l'Io dell'essere umano questo principio spirituale passando dal mondo del pensiero cioè Devakan inferiore man mano al Devakan superiore o mondo della ragione sperimenta delle gerarchie sempre più elevate queste gerarchie sono gli spiriti del movimento gli spiriti della saggezza cioè le virtù e le dominazioni di cui le virtù hanno donato il corpo astrale e le dominazioni hanno donato il corpo eterico poi i troni che hanno donato il corpo fisico all'essere umano e infine i serafini e i cherubini che sovraintendono tutto il processo quando l'essere umano oltrepassa la sera degli Elohim percepisce quanto lavoro c'è ancora da fare perché queste gerarchie sono talmente sublimi che il loro essere ispira il lavoro futuro non solo dell'uomo ma anche della gerarchia che ha generato l'uomo cioè gli Elohim quindi le virtù che peraltro il spirito del movimento che coordinano per esempio tutti i movimenti celesti delle sfere celesti gli spiriti della saggezza le dominazioni che a loro volta infondono la saggezza che è quello che rende intellegibile il mondo per esempio il fatto che esista che ne so matematica fisica chimica le leggi del mondo fisico sono originati dal fatto che esistono degli esseri che sono saggezza in loro stessi e i troni che con loro essere hanno donato con loro sostanza di calore hanno donato il fondamento della realtà fisico materiale che poi è decaduta ma di fatto è stata donata da una gerarchia estremamente elevata tutto quello che noi diamo più per scontato che è più fondamentale in realtà trae fondamento dai mondi spirituali che sono più elevati quindi per esempio quando si arriva nella sfera di Marte nella sfera di Giove nella sfera di Saturno l'uomo vede gli spiriti di gruppo della natura e quando sperimenta che cosa sono realmente gli spiriti di gruppo della natura quindi non stiamo parlando degli esseri elementali che sono legati alla sfera eterica stiamo parlando degli spiriti cioè degli Io che vivono che coordinano tutte le specie di un determinato animale tutte le specie di un determinato vegetale tutte le specie di un determinato minerale quando arriva a contemplare queste sfere del mondo della ragione l'uomo vede che l'animale incarna una saggezza che è superiore a quella che lui possiede l'Io dell'animale lo spirito di gruppo lo stesso nel vegetale vede che possiede delle forze delle forze di bellezza che sono superiori a quelle che è in grado di esprimere e ancora di più ancora di più degli animali ancora di più dei vegetali vede gli spiriti di gruppo dei minerali che esprimono nella loro apparente semplicità il pensiero della prima gerarchia quindi Troni Cherubini e Serafini di conseguenza l'uomo viene ispirato a fare quindi non gode in un certo senso questo aspetto di godimento quindi da un punto di vista diciamo di mi sento a casa torna a casa diventa una sorta di forse c'è ancora del lavoro da fare volevo chiedere questo che differenza c'è fra il mondo del pensiero e il mondo della ragione cioè diventa attivo l'io diventa già dalla nomenclatura diciamo il mondo del pensiero cosa vuol dire per esempio il mondo del pensiero significa che sostanzialmente quando noi sperimentiamo per esempio il pensare puro quindi slegato dai sensi tutto quello che è l'attività della filosofia della libertà e poi successivamente dell'iniziazione fino al pensare vivente quello è in realtà il fondamento sul quale l'io lavora che la matematica e la geometria avrebbero in un certo senso collocati lì sì tutto ciò che addirittura in un certo senso superiore perché in realtà noi rappresentiamo per esempio la matematica questa forma formale di formule però in realtà è un sostrato vivente che è il sostrato degli spiriti del movimento e degli spiriti della saggezza e poi ancora più fondamentale di quella dei troni quindi di fatto noi quando studiamo queste materie che sono sempre più complesse infatti si può diciamo anche in un certo senso perdere il contatto con la realtà è perché la loro scaturigine originale e seppure noi ne studiamo una sorta di ombra morta la scaturigine è molto elevata e anche la musica per esempio nella sfera di venere e di mercurio chiedo scusa magari facciamo finire l'esposizione e poi fate le domande altrimenti è la dispersione quindi l'io con l'estratto diciamo quindi a questo punto siamo nell'io superiore addirittura che è come se inviasse al posto che un suo raggio verso il basso invia un suo raggio verso l'alto va verso queste sfere più elevate attraverso queste sfere più elevate raggiunge il limite il cosiddetto anello non passare è una terminologia teosofica dello zodiaco questo perché la prima metamorfosi della terra l'antico saturno avviene entro la sfera dello zodiaco quindi è il limite massimo dal quale la coscienza dell'io anche dell'io superiore può raggiungere entro questa questa catena planetaria in cui siamo nella quarta metamorfosi della terra quindi l'io questa emanazione dell'io superiore raggiunge questo la sfera dello zodiaco questo limite di coscienza che è invalicabile sostanzialmente a cui poi ci sono i pianeti esterni al di fuori e lì trova la controparte superiore dell'io superiore che si chiama vero io e il vero io è sostanzialmente tutt'uno con lo zodiaco cioè con i cherubini quel vero io non si incarna mai è l'archetipo dell'io superiore quindi in sostanza abbiamo tre io il vero io l'io superiore e l'io che si incarna è un triplice io il vero io è quella sfera da cui scaturisce il logos il logos che diventa Cristo nella sfera del sole cioè lo spirito del sole l'eloa del sole e poi diventa Cristo Gesù incarnandosi in Gesù di Nazareth al battesimo del Giordano ai 30 anni e qui è dove si intreccia una dimensione macrocosmica con una microcosmica l'io in accordo con queste gerarchie superiori fino ai troni che sono coloro ripeto che hanno donato il corpo fisico regeneramente nell'antico Saturno aiutano al momento in cui si passa la mezzanotte cosmica l'io a ridiscendere nell'incarnazione perché c'è ancora del lavoro da fare ci sono gli spiriti di gruppo di minerali che ce lo dicono quelli degli vegetali e quelli degli animali così come le gerarchie che li hanno generati che sono superiori alle gerarchie che hanno generato l'io umano comincia la sua discesa e cominciando la sua discesa in accordo con queste gerarchie che noi in un certo senso sperimentiamo quasi come dei giudici del cosmo ci danno delle indicazioni su quello che è possibile fare per evolvere ulteriormente e allora i primi quadri di vita della prossima incarnazione cominciano a comparire in discesa questi quadri di vita che vengono in un certo senso archetipicamente decisi nel mondo della ragione poi vengono assunti dall'io superiore e l'io superiore promana l'io in incarnazione l'io inferiore verso il mondo astrale regione eterica e poi l'incarnazione nel mondo fisico man mano che si scende gli arti spirituali che sono ancora in nuce ancora in evoluzione dell'uomo il sé spirituale lo spirito vitale l'uomo spirito collaborano con queste gerarchie superiori all'elaborazione prima del corpo fisico poi del corpo eterico e poi del corpo astrale dell'incarnazione successiva fin quando una volta raggiunta la sfera della luna chiamata anche la porta dell'incarnazione l'io che si sta incarnando e che ha già ricostruito i suoi involucri richiama due persone due esseri umani che sono sulla terra e che desiderano avere un figlio cioè l'io che si incarna sceglie i propri genitori e fa in modo che queste trame karmiche del destino nella nella nostra dimensione spazio-temporale come se come se fosse una trama di un tessuto che viene tirata in modo da trarre due persone vicine e farle innamorare per far sì che quest'io si incarni talvolta una volta raggiunta la regione eterica l'io può provare paura per l'incarnazione questa è una fase estremamente delicata perché in questa fase così come avevamo ricapitolato al contrario la vita che abbiamo appena passato al momento della morte fisica poco prima quindi la regione della luna poco prima dell'incarnazione fisica della nascita fisica si sperimenta in anticipo tutti i quadri principali della vita futura e l'io può spaventarsi ma ci sono tanti casi ci sono anche per esempio bambini che magari non hanno tanta voglia di nascere stanno aumentando questi casi ma non è solo paura anche gli ostacoli infatti volevo andare in questo discorso che ritornando al discorso che abbiamo fatto inizialmente a quello di cui abbiamo parlato inizialmente cioè che i defunti si avvicinano quando si parla di verità del mondo spirituale perché? perché noi squarciamo delle tenebre un'immaginazione che possiamo fare che il mondo astrale e il mondo eterico che avvolgono quindi la terra tanto più noi riversiamo pensieri spirituali tanto più si squarciano dei veli come se la luce li aprisse ma tanto più noi immettiamo materialismo tanto più questi veli si richiudono e si ricompattano si addensano come delle nubi quindi quando le anime arrivano vicino alla terra se c'è molto materialismo vedono molta oscurità cioè non vedono e sono disorientate ma se invece trovano degli squarci vedono anche quello che è l'evento del Cristo eterico dal momento in cui è avvenuto il mistero del Golgotha nel momento in cui è avvenuto la risurrezione e dal momento in cui è avvenuta l'ascensione la seconda avvenuta del Cristo non è più un'avvenuta fisica ma è un'avvenuta che intesse nell'eterico corpo eterico corpo eterico del Cristo si spande nel corpo eterico che intesse tra la terra e la luna quando il materialismo prevale su quello che è un pensare in accordo con i mondi spirituali il pensare di Michael il pensare vivente quindi il pensare delle gerarchie Michael è il fiero principe del del pensiero che raccoglie tutto quello che è questo pensare cosmico quando prevale invece il materialismo è come se il Cristo eterico subisse un'altra crocifissione un'altra morte per essere più precisi che non è più una crocifissione come avvenuta sul piano fisico ma è un soffocamento la vittoria del re del mondo esattamente cioè la vittoria di Ariman essenzialmente di Arimane il re del mondo di questo mondo e quindi quando noi invece squarciamo questa atmosfera eterico astrale della terra fino alla sfera della luna noi apriamo dei varchi in cui il Cristo eterico respira è in cui le anime che entrano nell'incarnazione trovano riconoscono innanzitutto l'evento della risurrezione quindi hanno meno paura di entrare nell'incarnazione e ancora di più possono vedere la loro vita futura in un modo più chiaro con le loro forze di coscienza che non sono uguali per tutti quindi questo processo che lega da vicino i vivi e i morti questi defunti che sono vicini a noi perché in realtà poi queste sfere noi ce le immaginiamo le vogliamo rappresentare in un certo senso per comprenderle come se fossero gli strati di una torta uno sopra l'altro ma in realtà non è così sono una inanellata nell'altra sono una sfera dentro l'altra quindi qui esattamente dove siamo noi a Mesagna esiste la dimensione della sfera dello Zodiaco come quella di Saturno e così via sono come una dentro l'altra come i nostri corpi esattamente sono corpi macrocosmici retti dalla coscienza delle gerarchie ognuno con il suo grado di coscienza quindi chiaramente gli angeli possono arrivare al massimo per esempio alla sfera della Luna gli arcangeli a quella di Mercurio l'arcaia a quella di Venere gli Elohim a quella del Sole le virtù a quella di Marte le dominazioni a quella di Giove e i troni a quella di Saturno ma il pensare diciamo il sentire e il volere di queste gerarchie dalle più alte andando diciamo con le più basse si compenetrano uno nell'altro quindi il nostro sforzo di creare questa sorta di mappa questa sorta di vocabolario potremmo usare anche degli altri termini e potremmo usare anche un'altra mappa però questa c'è ancora comprensibile e dunque ci aiuta a aprire quei varchi ci aiuta a connetterci a unirci ai defunti e aiuta i defunti che sono vicini alla sfera terrestre a muoversi in questi varchi di luce in questi sentieri di luce intessuti da pensieri spirituali quando noi facciamo un lavoro di tipo spirituale una preghiera un mantra meditazione rivolta ai defunti quando noi leggiamo alcune composizioni alcuni versi mantrici per esempio noi apriamo questi varchi e se ci sono dei defunti che sono troppo legati alla sfera terrestre questi si sentono sollevati è come se noi eliminassimo quell'oscurità che li trattiene legati alla sfera terrestre quindi anche delle persone che sono state legate troppo al materialismo grazie a questo tipo di lavoro interiore di altri ne vengono liberati gli vengono in un certo senso aperti gli occhi per quanto riguarda l'aspetto che non abbiamo citato perché è tutto molto complesso ma vale la pena almeno di parlarne di accennarlo di quello che è l'azione di Arimane e Lucifero di quello che sono i mondi sovrasensibili tutto quello che è sfera d'azione di Arimane raggiunge al massimo la sfera della luna quella che invece è l'azione negativa di Lucifero va dalla sfera di Venere fino alla sfera della terra ai primi strati della sfera della terra i primi tre a Rima nel contrario il materialismo può agire l'abbiamo visto prima fino a questa sfera la sfera della luna quello che è il falso spiritualismo quello che è diciamo l'affascinazione luciferica può agire dalla sfera di Venere fino alla sfera della terra questa che viene generata dall'incontro tra l'influsso luciferico e l'influsso arimanico è la cosiddetta ottava sfera questa sfera che si estende fino alla luna quindi che include la terra e la luna e che in un lontano futuro in future incarnazioni della terra diventerà una sfera in cui quegli esseri che non sono stati in grado di evolvere correttamente dal punto di vista del piano divino di evoluzione proseguiranno nel loro cammino a sé ma fino all'ultimo sostanzialmente ci sarà la possibilità che vengano redenti per esempio con questo lavoro un lavoro di tipo scientifico spirituale lucifero non ha solo un aspetto negativo ma neanche uno positivo lucifero è negativo nel momento in cui agisce nel corpo astrale dell'essere umano cioè microcosmicamente con l'esaltazione con l'egoismo con la superbia così come arimanico invece con il materialismo ma una volta che il cristo si è incarnato e ha compiuto il mistero del golgota è avvenuta è iniziata la redenzione di lucifero di una parte di lucifero che è questo lucifero superiore alla sfera del sole questa parte di lucifero è quella che realmente in quanto spirito di venere è fratello del cristo è il vero lucifero in un certo senso cioè colui che realmente è il portatore della vera luce non il falso la falsa luce cioè colui che è portatore ma che in realtà si propone come la luce qui invece se noi ci correttamente abbiamo un rapporto vivente col cristo nell'incarnazione quando passiamo alle porte della morte noi stabiliamo una relazione corretta tra il cristo e lucifero e di conseguenza lucifero nella sua cosiddetta cintura della menzogna che è sostanzialmente la metà del mondo astrale non ci può ingannare non potendoci ingannare quando noi passiamo dalla sfera solare alle sfere sovrasolari quindi da Marte in poi lucifero si rivela come la guida dei mondi spirituali che è capace di condurre in piena coscienza gli iniziati fino alla mezzanotte cosmica questo è quello di cui per esempio alcuni alcune tradizioni per esempio Manichè anche i Catari parlavano di Lucibel cioè ecco il lucifero che già sta diventando il nuovo Spirito Santo il Paracleto questo avviene solamente se l'io stabilisce una relazione vivente col Cristo in un'incarnazione quindi quando noi in ogni biografia che viviamo come nuova incarnazione sostanzialmente perdiamo delle occasioni per poter fare del lavoro spirituale per poter entrare in relazione col Cristo quindi con Michael ma anche con la Sofia di cui abbiamo parlato nell'ultima conferenza quando noi manchiamo di fare ciò sostanzialmente noi rimaniamo impastati in questa falsa luce luciferica e quando noi arriviamo alla sfera solare abbiamo delle difficoltà a riconoscere il Cristo e quindi a riconoscere qual è la natura la scaturigine dell'io dell'uomo e di conseguenza quando passiamo in queste sfere superiori è come se la nostra coscienza si estinguesse completamente tutto questo processo per concludere è sotto legge abbiamo detto dei serafini e dei cherubini e i troni che fanno parte della prima gerarchia i troni vengono chiamati anche spiriti della volontà quindi la volontà che regge i mondi i cherubini gli spiriti dell'armonia e sono gli spiriti che reggono la sfera zodiacale e i serafini gli spiriti dell'amore reggono tutte le altre sfere contemporaneamente e altre sfere di altre catene planetarie e sono associati al primo mobile per Dante colui che dà tutto il movimento a tutto il resto che non si muove ma muove tutto e sono tutt'uno con l'amore della trinità che sta al di fuori nell'eternità al di fuori di questa evoluzione anche macrocosmica ma invia i suoi impulsi di amore di saggezza di forza nella in tutto quello che è il processo cosmico del piano cosmico e quindi per questo Dante dice è l'amore che muove il sole e le altre stelle e qui concludo grazie grazie a voi e sono aspetto le vostre domande sono in attesa come molti raccontano che vedono passare la vita davanti a sé nel momento del pericolo molti raccontano anche che sulla soglia della morte fisica incontrano i defunti ora è l'anima della persona che sta per morire che varca la soglia e si avvicina a questa soglia così che con cui entra in contatto anche se li vede fisicamente raccontano io volevo capire questo meccanismo allora tutto quello che è una rappresentazione più fisica deriva semplicemente da quello che rimane dei sensi fisici ancora entro la regione eterica sostanzialmente che ci portiamo e che poi diventano le brame ardenti fino al kamaloka al purgatorio quindi sono rappresentazioni di fatto quello che noi percepiamo dei defunti è man mano quello che lasciano indietro da un certo punto di vista durante il loro viaggio di ascensione e che ancora deve dissolversi e dall'altro lato sono state di coscienza quindi quando noi diciamo i defunti si avvicinano noi ce lo rappresentiamo in termine spaziale come se uno dalla strada di fianco una persona venisse qui e bussasse alla porta e entrasse ma non è così è che il nostro stato di coscienza quando facciamo un lavoro spirituale apre quel varco alla coscienza di chi è nell'aldilà e che le avvicina ma le avvicina in senso di stati dell'essere non in un senso spaziale perché le scrivono anche certo le scrivono e le riconoscono ma quando si hanno quelle esperienze premorte non si è ancora diciamo nella sfera di mercurio nella sfera di venere si ha al massimo una sorta di proiezione di ispirazione quello si ha anche per esempio quando il corpo astrale che ha molta più mobilità lascia il corpo eterico e il corpo fisico cioè per esempio nel sogno il sogno che si sperimenta si sperimenta sostanzialmente nel viaggio che l'io e il corpo astrale fanno nel sonno e che ritornano poi al momento del risveglio il sonno per i greci per esempio ipnos et sanatos cioè il sonno e la morte erano fratelli gemelli cioè significa che il sonno è in un certo senso una sorta di piccola morte rispetto alla grande morte l'allogia quando un'anima entra nella luce che si sente ok quando entra oltre il piano eterico ed entra nella parte dell'io sono qui è realmente la regione della luce spirituale che non è una luce fisica abbiamo detto all'inizio che nel momento in cui la luce fisica è più tenue cioè è più debole la luce spirituale è più grande quindi per esempio quando si arriva a Natale cioè tra il sostizio d'inverno e Natale lì è il momento nelle 13 notti sante in cui il sole spirituale è più forte quindi quando si entra nella luce si può intendere in un certo senso che si è entrati nella regione eterica ma in un senso più proprio è che si è entrati nella sfera solare grazie diciamo che ci sono tre tre luci c'è la luce eterica la luce estrale e poi la luce spirituale quindi la luce spirituale sarebbe quello che Dante chiama paradiso grazie diciamo che i contatti che diceva prima la signora molte volte si ha a che fare con dei gusci sì quindi non non è sempre che entriamo in contatto con l'essenza con l'anima del defunto ma col guscio che ormai l'ha abbandonato diciamo che quasi mai cioè si ha quasi sempre contatto con quelli che sono i residui etericoastrali dei defunti ma una specie di consolazione oppure un'immaginazione cioè è effettivo questo contatto da un punto di vista sovrasensibile è effettivo ma il problema è che non è l'essenza non è l'io di quella persona sono le scorie abbandonate no quindi quanto incide questo contatto con questa scoria per il defunto cioè le preghiere fatte per i defunti allora la preghiera sì ma un contatto con un defunto per esempio attraverso un contatto medianico li trattiene verso la sfera terrestre mentre una preghiera no li libera verso le sfere superiori chiaramente deve essere una preghiera che non mira a richiamarlo a te no al tuo stato di coscienza anche perché noi dobbiamo tenere presente che per quanto noi possiamo avere uno stato di coscienza elevato nel momento in cui noi ci escarniamo e raggiungiamo l'io superiore e tanto più il vero io se noi mantenessimo lo stato di coscienza di veglia è qualcosa di incomparabile rispetto al normale stato di veglia che noi abbiamo durante l'incarnazione fisica cioè l'uomo è più se stesso dalla sfera solare fino alla sfera zodiacale che non dalla sfera solare alla sfera terrestre ovvero il corpo fisico è un po' come se fosse una sorta di tomba barra prigione questo era quello che sentivano per esempio i greci tutto l'orfismo è basato sulla liberazione dalla tomba della carne del corpo fisico perché? perché i sensi superiori animico spirituali sono tenebrati ma attraverso le pratiche tipo spirituale di lavoro interiore iniziatiche noi andiamo a risvegliare i sensi superiori a formare gli organi che servono per i sensi superiori anche nell'incarnazione e il contatto medianico dedicato se si può dire così all'aiuto verso il defunto per risalire invece il problema è che è un contatto medianico cioè un contatto medianico non è sopra la soglia della coscienza di veglia ma è sotto quindi significa che quando il medium richiama il defunto non lo innalza a uno stato di coscienza superiore ma lo abbassa a uno inferiore però questo può essere temporaneo è temporaneo ma di fatto è come se fosse un ancora che viene data al defunto e se non è un ancora permanente no non è un ancora permanente di permanente qui sostanzialmente è un movimento continuo infatti Steiner diceva dovremmo rinunciare a dire riposa in pace in un certo senso perché tutto quello che avviene qui è tutto tranne che pace cioè è una pace quando si raggiunge diciamo questa pace solare la cosiddetta pace profonda di Rosa Croce però allo stesso tempo è un movimento continuo quindi questo riposo in pace è come dire il tuo lavoro è finito non è per niente così il lavoro continuo anzi è un lavoro che ispira nuovamente nuovo lavoro addirittura si parla per esempio che i maestri sostanzialmente avendo elaborato il corpo astrale in sé spirituale avendo elaborato il corpo vitale alcuni il spirito vitale e alcuni pochissimi in realtà sostanzialmente quasi uno avendo elaborato anche il corpo fisico in uomo spirito non dovrebbero più tornare a toccare la sfera terrestre se fosse in realtà no? così in realtà scelgono di ritornare non stanno in pace in quel senso non stanno lì a uziare ma si avvicinano nuovamente in modi nuovi con possibilità nuove alla sfera terrestre per aiutare il collegamento con i mondi superiori e in piccolo questo è quello che noi dobbiamo fare pur non essendo maestri mettiamo il caso di quelle persone che sono particolarmente sensibili e si trovano a vedere o a sentire quelli che sono i defunti no? quindi non sono cercati queste cose che sono cercate ma sono semplicemente accadono ok? questi defunti si fanno sentire in particolar modo da queste persone che sono sensibili e quindi ripeto le ascoltano perché cercano aiuto per un'elevazione un aiuto a superare quelli che sono i limiti di cui abbiamo parlato prima no? e quindi i passaggi da uno stato all'altro ora la preparazione diciamo spirituale di queste persone che si trovano ad avere questa possibilità naturalmente può essere di grande aiuto a questi defunti che cercano una strada per elevarsi e non la trovano allora diciamolo in un altro modo è la preparazione spirituale di queste persone che pur avendo già una predisposizione per questa percezione che comunque è fondamentalmente atavica cioè è qualcosa che deriva dal passato dalle forze che noi ci portiamo da tutta l'elaborazione precedente quando fanno anche un lavoro spirituale e quindi vanno a compensare quelle che sono le forze ataviche allora possono fare quel tipo di lavoro ma allora siamo già in qualcuno che sta facendo un lavoro di tipo esoterico non è non c'è diciamo non è possibile in un certo senso che la persona nasca mantenendo completamente tutte le sue capacità coscienti nella sua ridiscesa cioè si sta parlando eventualmente di casi estremamente eccezionali per esempio appunto i maestri in alcune incarnazioni hanno avuto dei risvegli molto precoci ma questo è un altro discorso stiamo parlando della generalità e della diciamo della maggioranza delle persone ce ne sono molte di più di quelle che pensiamo che hanno quel genere di capacità soprattutto nei primi sostanzialmente primi 28 anni poi normalmente queste capacità dei 21 ai 28 fino ai 33 diventano inconsce e poi con un lavoro esoterico possono riemergere in forma cosciente dopo circa i 33 anni e di lì allora si può lavorare in senso esoterico vero e proprio cioè dalle forze dell'io perché l'io si incarna effettivamente completamente solamente sostanzialmente dai 28 anni in poi dai 21 comincia ad incarnarsi di più poi i 28 effettivamente è incarnato e poi comincia il suo lavoro di escarnazione di spiritualizzazione dei corpi dai 33 in poi quindi effettivamente queste anime particolarmente preparate riescono ad aiutare ma se c'è questo sforzo cosciente volitivo di preparazione cioè di lavoro interiore se io nasco con la capacità medianica e la preservo anche oltre i 33 anni se non faccio nessun tipo di lavoro esoterico non posso aiutarli posso solo subire eventualmente queste interferenze che infatti diventa diciamo addirittura quasi un peso in effetti io conosco diverse persone che sono anche miei pazienti che hanno questo contatto con i defunti ma non vivono bene perché sono diciamo sono costretti cioè non è che possono cambiare canale quando gli arrivo questa informazione e si sentono impotenti a volte magari lo vanno a dire al parente della persona del defunto ho sognato questo però rimane là secondo me la chiave sta nel fatto che le dice come anima fino a quando ci viviamo come anima non possiamo veramente aiutare i defunti per la misura in cui si assume una coscienza dell'io di questa particolarità dell'io allora là inizia la possibilità di elevare l'anima del defunto che è rimasta diciamo imbrigliata verso la luce dello spirito sì sì chiaramente da anima a anima non si può aiutare quindi bisogna dall'io dall'io attraverso l'io quindi attraverso questo principio spirituale quindi siamo sfera già archetipale siamo oltre la personalità oltre quello che è l'astralità grazie se non ci sono domande l'ultima è difficile conservare la domanda quando l'attualità si è persa però torniamo all'inizio tu hai parlato che nell'epoca dell'anima cosciente mediamente la persona un'io si incarna due volte mediamente giusto? no io ho detto che allora parliamo della nostra epoca che diciamo il numero di incarnazioni minime quindi almeno in un'era astrologica è nella prima metà e nella seconda metà ma in realtà è molto più veloce il processo di incarnazione quindi almeno si deve vivere nella prima metà dell'era astrologica e nella seconda metà quindi dell'anima cosciente nella prima metà dell'era dell'epoca dell'anima cosciente e nella seconda metà ma di fatto il processo di evoluzione dopo il mistero del Golgotha non è andato rallentando è andato accelerando quindi di conseguenza l'io che si sta rafforzando sostanzialmente anche in un certo senso a spese degli altri corpi degli altri stati di coscienza accedera al processo chiaramente come decelera invece come contro movimento come diciamo contro processo col materialismo perché perché le anime rimangono legate alla sfera sublunare si rimangono riguardo alla vita terrestre c'è c'è una vita media da costellazione di nascita fino a che l'io non incontra l'uomo terrestre non incontra la costellazione dopo un anno cosmico che sarebbero 72 anni quindi oltre 70 perché hai detto fino a 100 io parlavo di in media di vita biologica diciamo non è media però diciamo che in sostanza il limite massimo della vita biologica si ha tra gli 80 e il 100 diciamo così era per dare un numero sì è vero che in antichità vivevano anche centenari erano a mare sì ma vivevano anche attraverso il corpo eterico degli antenati quindi lì c'era una memoria che veniva recuperata dall'antenato inantenato quindi era ancora un altro modo diciamo di sperimentare la propria che non era propria biografia era la biografia del popolo però diciamo che dal punto di vista biografico il lavoro biografico comunque arriva fino a 63 anni 63 63 che è la fine del nono settennio sì settennio di Saturno lì il lavoro biografico a un certo punto si ferma ovviamente non è che si ferma è il momento ma progressivamente si ferma e viene passato tutto il lavoro che ancora rimane carmico perché chiaramente è incapsulato tutte le le incarnazioni precedenti sono incapsulate in quella che è l'incarnazione che comunque abbiamo vissuto fino a quel momento vengono demandate all'incarnazione successiva quindi dopo i 63 anni di fatto Steiner dice si diventa figli degli dei cioè tutto quello che avviene dopo è regalato da questi dei 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 pianeti dei delle sfere planetarie che sono le gerarchie quindi il fenomeno è importante questo fenomeno degli aziani che vivono 95 anche se qualcuno vorrebbe ammazzarli prima per risparmiare sulle pensioni invece è importante questa presenza spirituale è fondamentale perché lì si vive in sfere che non sono più sfere legate sostanzialmente al sacrificio dei troni ma si va nella sfera di Urano di Nettuno e di Plutone che sono sostanzialmente i sette anni successivi che non sono più legate a un elemento di elaborazione individuale personale ma un cosiddetto elemento transpersonale cioè che è nella metà sopra dal sole in su quindi sostanzialmente dovrebbero essere in grado di dare delle diciamo nell'ideale sarebbe che coloro che raggiungono oltre il nono settennio la vita fisica oltre il nono settennio possono dare dei contributi che sono sempre più oggettivi il problema al posto che sono oggettivi il problema è che essendo fortemente condizionati da una vita materialistica anche se raggiungono quell'età spesso tutto diciamo il contesto tutti i corpi nel quale vivono non sono in grado di sostenere quel tipo di lavoro transpersonale e quindi e quindi vengono sostanzialmente sostanzialmente una sorta di sopravvivenza non è una vita effettivamente nelle sfere transpersonali noi oggi abbiamo un asteso la vita biologica ma abbiamo sostanzialmente reso più scarsa più di bassa qualità quella che è la vita effettiva spirituale ma anche poi da un punto di vista anche poi effettivamente pratico a volte però portano un elemento di libertà lo porterebbero esattamente esattamente ma spesso è limitato dal peso del materialismo imparante che è un materialismo che dalla società lavora sull'individuo costantemente quindi per esempio genera delle forme di malattie nervose che non sono degenerative che non sono non permettono l'espressione di questo elemento di libertà oggettivo no no dico però esistono ma nel senso che assolutamente potrebbe essere molto più diffuso questo elemento di libertà oggettivo ma noi vediamo invece per esempio che ha delle difficoltà a emergere c'è qualche altra domanda? no allora posso fare una piccola considerazione chiaramente per chi sente per la prima volta questo tipo di quadro così stratosferico è una fantascienza però se viene portato in chiave meditativa questo aspetto chiaramente viene approfondito come un lavoro individuale singolo non solo diciamo diventa più plausibile ma da diciamo aumenta questa questa capacità di vedere l'altra metà del cielo perché noi ci fermiamo generalmente a questa poi di mondi post mortem questo diciamo un tentativo di collegare l'altra metà del cielo a diciamo in una forma una sintesi pensante di orientamento perché altrimenti veramente la disperazione insomma per chi proprio non ha neanche un barlume diciamo vabbè poi quando muoio dall'altra parte vedo invece è esattamente il contrario ciò che non si conquista in chiave di coscienza in vita dall'altra parte è il buio terrificante quindi è un qualcosa non è che ci dobbiamo occupare dopo è proprio in vita e più riusciamo a squarciare queste penetre della paura diciamo dell'insicurezza del futuro e più la qualità della vita cambia perché si vive in modo diverso come dire prevenire prevenire no? prepararsi è una prevenzione che dopo dice c'è sempre tutto facile no? si poi dopo faccio quella e dopo no? adesso questo che vuol dire che se una persona non ha coscienza dei mondi superiori non ha al momento del passaggio per lui sarà l'oscurità io penso a tanti atei a tanti gnostici allora a tanti che hanno fatto del male impunemente e credono di non dover pagare nulla cioè se io non credo nei mondi superiori non li vedrò allora se io credo avrò una coscienza per poterli vedere cioè dipende da me o effettivamente è così per tutti no dipende essenzialmente da una scelta individuale cioè il mondo il mondo spirituale i mondi sovrasensibili esistono in uno stato che è sempre più oggettivo man mano che andiamo dalla sfera terrestre fino alla sfera dello zodiaco quindi semplicemente sono cioè sono dati sono così ma la nostra percezione di questi mondi dipende da quelle che sono le nostre scelte diciamo da quello che è il nostro andamento della vita e dal nostro stato di coscienza da quello che è il nostro lavoro nelle forze dell'autocoscienza steiner a proposito di chi era ateo per esempio diceva che dipende come è ateo perché seppure si professa ateo ma in realtà poi ha per esempio dei principi morali o sposta quella che è una sua credenza in un altro campo in realtà quando oltrepassa le porte della morte siccome ha ritenuto che esistessero comunque dei principi superiori per esempio dei principi morali o etici in un certo senso sono comunque aiutati riescono comunque a trovare una strada ovvero a percepire fino a un certo punto i mondi superiori nel posto morte quando invece la persona non si chiede proprio affatto la domanda è il problema in realtà è più difficile per una persona che proprio non ha una domanda morale cioè non si pone neanche il fatto se esista o non esista non gli interessa proprio e rimane legato a tutte quelle che sono le modalità del corpo fisico riempito da materia cioè dei sensi che siano sensi interiore che sia quello che invece arriva attraverso il mondo esteriore tutto quello che è l'aspetto sensore esteriore quindi rimane intrappolato tra lucifero e arimane lucifero che da dentro lavora verso fuori e arimane che da fuori lavora verso dentro verso l'interno quindi se esiste comunque una filosofia di vita le filosofie di vita sono comunque derivanti dalle dodici regioni dello zodiaco anche il materialismo che è associato alla regione del cancro ma è comunque contemplata come una delle dodici visioni del mondo date dai cherubini quindi in un certo senso c'è una possibilità ma se invece non si pone il proprio problema ma quello chiude la percezione del mondo spirituale e così come la brama diciamo di possedere la brama di la brama violenta una brama distruttiva verso gli altri queste legano la sfera sublunare tutto quello che è incapacità di poter controllare i propri istinti più bassi o comunque sia tutto l'aspetto ombra tutto l'aspetto del doppio quello che mi sembra non difficile ma perché abbiamo la necessità di dimenticare ogni volta che ci incarniamo mi sembra un girare a vuoto perché io non faccio come parlo in maniera grossolana perché dimentico le esperienze che via via potrebbero aiutarmi a migliorarmi perché ogni volta devo tornare perché in realtà quelle esperienze che si sono avute in un certo modo che quindi sono l'estratto del corpo fisico eterico astrale che vengono portate da lì o fino alla mezzanotte cosmica in realtà quando ritornano nella sfera terrestre non sono più identiche a loro stesse ma sono state elaborate cioè devono essere espressi attraverso una serie di stadi in forma metamorfosata quindi non possono agire in un modo antico uguale all'antico perché bloccherebbero il processo di evoluzione è un po' come se noi continuamente ricordassimo il modo in cui abbiamo imparato a leggere e a scrivere agli elementari se invece noi dimentichiamo quel processo possiamo usare le forze che sono scaturite da quel processo avendolo dimenticato però restano nel nostro inconscio esattamente ma vengono vengono riattivate sono le cosiddette reminiscenze platoniche vengono riattivate su livelli diversi e in forme diverse quindi per esempio una predisposizione in una vita per esempio alla musica può diventare una predisposizione alla matematica per esempio in quella successiva e magari essere negato nella musica e magari essere negato nella musica questo è importante perché essere negato nella musica ma conosco tanti mali magici che sono negati però diciamo c'è una corrente di pensiero che dice ma se una persona già acquisito un essere umano un individuo diciamo così in un'incarnazione passata determinate qualità ok la vita successiva ce l'ha belle pronte così cioè parte di là invece non è così sbaglia poco lo vuoi spiegare spiegare tu Giorgio no procedi poi se mai no diciamo che quello che noi abbiamo acquisito nella vita passata diventa una facoltà acquisita cioè diventa non più come un talento in erba cioè da attivo in questo senso a parte l'eccezione la parte di igiene no c'è un altro discorso quindi diventa una facoltà che si fa da strato per sviluppare altre facoltà non fino a se stessa perché parliamoci chiaro cioè se una cosa l'ha acquisita poi diventa cioè voglio fare qualcosa di nuovo non deve essere la ripetizione dell'uguale se rimanesse presente questa qualità per la musica della vita passata non mi permetterebbe di fare il nuovo in questa esistenza quindi diventa il suo strato si fa da base per sviluppare altre potenzialità che sono quelle potenzialità che l'io superiore vede nel momento in cui va verso la prima gerarchia cioè quello che ancora gli manca non quello che ha già acquisito esatto di fare altro di cambiare che già l'ho fatto nell'estrenza che ripeto di nuovo esatto non è un dimenticare assoluto è un dimenticare per dare spazio posso dire una cosa sul dimenticare il dimenticare le passate incarnazioni protegge certo non siamo pronti certo questo è un altro esperto perché se noi avessimo avessimo non lo so chi ce l'ha il quadro delle nostre incarnazioni perché noi siamo stati gli atlanti degli indiani ne abbiamo combinati i corti di crude secondo me l'uomo si altro che paura certamente perché la paura della nascita è il fatto che ci siano quei bambini disabili così è il peso del karma è anche esattamente è anche proprio il ricordo ma infatti è proprio nel processo iniziatico che prima si ha una percezione dell'incarnazione precedente poi di tutte le incarnazioni precedenti fino alla metà dell'epoca lemurica ma è perché man mano vengono oltrepassati diciamo queste sfere di coscienza attraverso il lavoro esoterico viene superato il piccolo cosiddetto piccolo guardiano della soglia e poi il grande guardiano della soglia allora si arriva a non aver paura a poter mantenere un certo stato di coscienza anche davanti a quei quadri di vita di ere passate nel quale peraltro l'uomo non era neanche nella forma in cui lo conosciamo adesso quindi di conseguenza c'è anche questo aspetto di protezione sicuramente oltre che più pedagogico che poi invece se ci pensiamo quando entriamo nell'incarnazione che siamo sostanzialmente dai tre anni quindi dal momento in cui diciamo Dio prende il primo contatto vero e proprio con i corpi gli involucri del bambino in quel momento che il bambino è ancora un essere molto cosmico molto più cosmico che umano quindi fino sostanzialmente a tutto il secondo settennio fino alla soglia del terzo moltissimi talenti continuano a manifestarsi solamente che poi ce li dimentichiamo quindi in realtà non è proprio un dimenticare tabula rasa tanto più che molti bambini prima dei tre anni possono manifestare delle attitudini che derivano dalle incarnazioni precedenti e alcuni riescono a mantenerle anche in forma metamorfosata anche dopo anche negativi anche negativi certo questo è chiaramente molto più raro però di fatto in un senso e nell'altro noi facciamo l'esempio così la signora ti prego no come una domanda così che magari è sulla se io nasco decido di nascere mi mandano sulla terra conosco i miei genitori e faccio parte di una famiglia di anime no? perché sono nata in quel luogo io nasco mio figlio eredita dicono da me lo stesso tipo di malattia e così figlio di mio figlio che cosa c'è in quella in quelle anime di uguale nell'evoluzione personale spirituale che le porta ad avere quel tipo di messaggio sul corpo allora tanto la corrente ereditaria del corpo fisico appartiene al corpo fisico quindi alla linea di sangue ok? esiste poi un'ereditarietà in un certo senso eterica e una astrale quella astrale fondamentalmente è legata a tutto il discorso del karma quella eterica è legata ai processi vitali della famiglia che quindi sono poi in relazione soprattutto alla madre quindi ci sono tre diversi strati dell'ereditarietà l'io è l'unico che è al di fuori di questo discorso dell'ereditarietà perché abbiamo detto che è nella sfera architipale quindi non ha l'ereditarietà dell'io qual è? sono tutte le esperienze delle incarnazioni precedenti in nuce come abbiamo detto prima quindi di conseguenza quando l'io sceglie di entrare in determinate correnti di ereditarietà astrale cioè karmica eterica cioè delle forze vitali della famiglia e fisica cioè della linea di sangue lo fa perché non ha ancora quelle forze che sviluppa superando quelle forze ereditarie quindi è come se non superasse un'azione da fare e la trasmette da padre in figlio fino a che uno dei membri di questa catena non spezza il legame quello è l'aspetto metagenalogico è un aspetto che infatti è un aspetto diciamo di karma di livello superiore non è più un karma individuale ma è un karma familiare credo che sia un messaggio dell'anima non sia un messaggio solo del corpo avere un tipo di problema uguale identico in ogni parente e può essere che questo non appartenga in realtà all'individuo ma appartenga a un livello superiore all'individuo cioè alla famiglia a un livello più sociale sociale in senso di famiglia ok ma animico oppure effettivo cioè di abitudini di personali dipende dipende ci sono ci sono varie appunto ci sono almeno tre correnti di ereditarietà che si possono avere quindi si possono addirittura intrecciare tra loro quindi poi in effetti bisogna entrare nel merito della biografia di quel individuo di quella famiglia di quel gruppo di quella nazione di quell'umanità di tutta l'umanità se vogliamo la pena può spezzare questo tipo di conseguenza quando noi quando noi facciamo un lavoro sul karma noi agiamo in senso liberatorio a tutti i livelli perché se noi effettivamente liberiamo a partire dal karma individuale noi creiamo una serie diciamo di azioni conseguenti di liberazione su quello familiare su quello nazionale e poi su quello generale dell'umanità chiaramente quest'anima successivamente essendo avendo superato questo limite si reincarnerà in un altro tipo di famiglia chiaramente ma nella famiglia precedente che cosa è accaduto grazie al fatto che questo ultimo anello della catena ha spezzato bisogna entrare nel merito della biografia della metagenologia o metabiografia di quella famiglia non si può dire così teoricamente si può dire che però se è un'azione liberatoria ha un effetto liberatorio perché altrimenti intesserebbe nuovamente karma quindi questa è una questione diciamo anche terminologica di definizione se è liberatoria non può intessere del nuovo karma in quel senso antico posso dire un particolare però dobbiamo anche a parte di usare la parte astrale eterica e fisica che tu hai citato però dobbiamo capire che l'essere umano che si incarna prima di tutto è un io quindi l'io l'io superiore del sole non subisce nulla quindi si sceglie quella corrente specifica di ereditarietà perché gli serve per la sua evoluzione delle prove quindi l'io superiore non subisce nulla si veste di questi aspetti perché gli servono per la sua evoluzione quando in terra diciamo riesce a fare quello che si è proposto nel suo piano di vita nel senso di spezzare il karma allora lo scioglie non solo per sé ma anche per il circondario come un po' l'aspetto fisico che influisce il karma influisce anche sull'aspetto fisico della persona chiaramente tutti i livelli che stanno più in alto possono agire sui livelli più bassi da un punto di vista irregolare come per esempio abbiamo visto prima l'effetto per esempio del materialismo anche i livelli inferiori possono agire irregolarmente su quelli superiori avvene una causazione inversa grazie no sto zitto era ora no mi piace voglio dire no sono molto stimolante il padre e la madre è sempre che mi immagino certo perché l'io non ha che fare con quell'elemento ciao ciao devo dare una cosa a lui adesso puoi intervenire mi dico posso dire possiamo chiudere con un'ultima parte del mantra per i defunti allora un attimo proprio di silenzio giusto nel principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era un Dio egli era in principio presso Dio e tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini alle origini era la forza del ricordo la forza del ricordo deve diventare divina essere divino tale sarà la forza del ricordo tutto ciò che nasce dall'Io deve diventare tale da generarsi con il ricordo trasformato dal Cristo trasfigurato in Dio in Lui la luce splendente e levantesi dal pensiero che si ricorda illuminerà le tenebre del presente le tenebre di oggi possano afferrare la luce del ricordo diventato divino era unito a voi restate uniti in me parleremo insieme in linguaggio della vita eterna agiremo insieme laddove le azioni hanno un effetto vivremo nello spirito laddove i pensieri umani si incarnano nel verbo dei pensieri eterni ex Deo nascimur in Cristo morimur per Spiritum Sanctum reviviscimus Amen